E' di Gansi il gol che apre la stagione europea dell'Inter. E' il segno giusto di chi condurrà l'Inter a forza di gol a un passo dalla vittoria. Il primo turno contro il Wingamp è una formalità risolta con 4 gol nei due incontri. Siede poi a forza che dalla distanza in fila con un crack destro. E 3 a 0 per l'Inter.